dimenticate il vostro nome e cognome il mio editore youtube a cura di vb noi vi ripetiamo dimenticate il vostro nome e cognome e consideratevi frammenti dell'assoluto che sono incarnati in terra per trascendere ciò che adesso siete allora non esisterete più come persone ma come individui allora tutte le domande ci ponete le farete ugualmente ma con una nuova attesa perché non saranno più domande ma risposte perché voi sarete anche la risposta a ogni vostra domanda e finalmente renderete cosciente ciò che vi diciamo ma vi preghiamo abbandonate voi stessi abbandonate ciò che vi siete costruiti e costruitevi invece nuovamente noi abbiamo detto soltanto costruendo vi costruirete noi senza la presunzione di esservi guida ma solo con l'intento di indicarvi ciò che può esservi utile adesso vi diciamo abbandonate la vostra separatività vi esortiamo a farlo il più velocemente possibile perché per quanto cercherete di farlo velocemente voi lo farete lentamente invece noi vogliamo esorcizzarvi al più presto dall'io che è l'unico demone esistente poi don mario terminò l'ascolto e uscì dal collegamento con youtube rimase a pensare quel video aveva detto alcune cose che lui già aveva dentro ma gli aveva anche indicato la sua infedeltà nei confronti dell'organizzazione di cui faceva parte e minava il successo del suo ministero con questo pensiero si rivoltò nel letto per il resto della notte fino alla mattina quando si recò in macchina nella sede della sacra rota insieme a monsignor luigi questo era un giudice rotale che qualche volta si serviva di don mario come segretario grazie a tutti Grazie a tutti